oggi vi parlerò di norma no non è una mia amica e neanche una regola ma vi assicuro che è una cosa buona e come sapo gli gnocchi alla norma dopo aver letto gli ingredienti e non barate non pensate al risparmio comprate tutto altrimenti la pasta non sa va buona ora leggete con cura dopo aver messo tutto nella pirofila aggiungete una bella spolverata di parmigiano mettetene tanto è infornate a 180 gradi per 10 minuti e mangiate questa porzione tutta per me tutta che goduria